Ok, ci siamo quasi. Abbiamo anche un po' di effetto occhi in sottofondo. Sì. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti e buona Pasqua. Assolutamente felice e serena Pasqua. Abbiamo trascorso di questa giornata, dai, una buona parte e siamo a metà di questa giornata. Speriamo che sia stata serena, sia stata di pace. Nel cuore e nella mente. Esatto, con noi e con gli altri e soprattutto con la vita. In questo momento in cui non possiamo stare insieme con i nostri cari e ci auguriamo di aver trascorso come si può una Pasqua serena. Esatto. L'anno prossimo speriamo vada meglio perché effettivamente è una cosa molto difficoltosa questa. Ma cerchiamo di alleggerirla. Nel pensiero, nel pensiero alleggeriamola, purtroppo non possiamo stare con le persone che amiamo di più e quindi cerchiamo di viverla bene almeno con noi stessi dentro di noi, far sì che sia un momento di contatto profondo con noi stessi, un giorno di rinascita con noi stessi. Quindi è l'augurio che io e Lidia vi facciamo a tutti quanti e lo facciamo anche a noi stessi. Anche a noi stessi, certo. Anche per noi è la stessa identica con noi. Molto importante. Molto importante, molto importante questo giorno, questo momento della vita e in questo momento così particolare, in questo giorno così particolare, sicuramente non vi aspettavate, sicuramente che affrontavamo un discorso come quello di Dante. Ma vogliamo affrontare oggi un argomento così che rievoca un grande personaggio del nostro passato e quindi siamo felici di poterlo fare insieme a tutti voi, insieme alle persone che ci seguono, che sono collegate e che ormai da più di un anno affrontano con noi tutte le tematiche. Quindi quest'anno, essendo il settecentesimo anniversario di Dante Lighieri, ci piaceva fare questo piccolo incontro dedicato a lui. E anche raccontarvi un po' di lui e di come sia importante anche sapere la sua esistenza e che cosa ha portato a tutti noi dal momento che lui è nato a oggi. Ovviamente oggi c'è una testimonianza, una rivelazione di quello che lui è sceso apposta dagli universi celesti per vivere e per portare all'umanità del suo futuro, siamo noi anche, il compito, la rivelazione del compito per cui lui è sceso per portarci per il suo futuro. Cercare di darci dei punti cardini per riflettere su di noi, sulla nostra vita e sull'importanza della nostra vita, ovviamente legata alla sua, perché lui raccontando grosso modo la sua, ha raccontato e racconta tutt'oggi la vita di ognuno di noi. Ermes leggerà un messaggio che Dante mi ha dato nel giorno del mio compleanno nel 2009. Nel 2009, quindi sono già trascorsi alcuni anni che l'altro giorno così, mettendo in ordine un po' le mie cose, l'ho piacevolmente trovato e adesso lo condividiamo insieme a voi. Sì, questo è un messaggio che Lidia è ricevete in medianità appunto 12 anni fa. Ed è dedicato a Lidia, ed è dedicato a questo luogo dove ci troviamo e al progetto anche che abbiamo, di pagine codute, della scrittura dei libri e della divulgazione di questo messaggio, di questo grande messaggero che ha voluto dare testimonianza di sé attraverso un altro grande messaggero, Dante Lidio. Dopo, quando abbiamo finito la diretta, lo troverete in seguito alla diretta. Così è una testimonianza di quello che abbiamo letto. La fonte della Lidia è Cristo. Mirate il lume che vi percuote. Scorgete la scintilla divina nelle vivi cante, mentre dissetate nel grande sapere crescente l'albero della vita, nei cori vostri. Sì, preziosi e speranzosi è. Sarete l'alba dell'indomani, che non è disparuta fin la soglia, della morente sorte, che la grava il fato di così mane soave umiltà, che da tanta parte, nell'ultimo sguardo inconcludente è. Pazientemente sosta la salvezza, tremante di libertà, tentenna la mano ad afferrare quello che non puote, perché di incenso fumante è la vostra dote. Allora domandate, dov'è che si appiglia l'anima disparuta? Qual è la terra santa promessa? Quando è il dì del giudizio per tutte quelle creature, che non hanno né colpa né danno? Ebbene, ogni misteriosa domanda, qualunque questione dubbiosa, e tutte le risposte vergono e convergono in quella sostanza, che non procura violenza, che non disonora l'esperienza, ma carezza, che non giudica e non fa indugi, ma accoglie, che non chiede nulla, ma dopo una ogni sorta. Per questo possedete quel nome scolpito, fin dentro il destino del creato. Leggete a limpide voci la sua essenza, splendidamente fatelo fra la futura gente, che ivi verrà errante, e il dono di se stesso fate la certezza che di voi stessi avete, e per questo che esistete, e che esiste vivi perennemente nel suo nome. Cristo non è nascente, Cristo non è tornante, Cristo non è passeggero di un treno che deraglia nei vostri pensieri. Credetevi in Lui, sentitevi con Lui, camminate per Lui, perché Cristo siete ognuno di voi. Grazie a te, grazie alla disponibilità che come sempre metti in ricevere, raccogliere attraverso la tua penna, la tua scrittura, la tua presenza, questi messaggi che giungono dal grande mondo invisibile, chiamiamolo così. In realtà è invisibile all'occhio umano, oltre all'occhio umano tutto questo è una grande, immensa realtà che ci troviamo ogni giorno a vivere, a sentire e a farci vedere. Siamo troppo distratti dalla materia, troppo distratti dalla nostra vita frenetica, quindi è un mondo che sempre di più purtroppo diventa difficile da percepire. Però il fatto che ci sia, e che sia una testimonianza accanto a noi di un grande e immenso amore, che ci dona queste perle, questi messaggi, queste scritture, Luce del firmamento stesso, il primo libro della collana di pagine cadute, rappresenta una delle grandi testimonianze di questa voce proveniente dalle stelle. E come avete sentito, in questo caso il messaggero che si è palesato attraverso questo messaggio era Dante Lighieri, 12 anni fa, ci fa capire che di fatto siamo interconnessi tutti con il tutto, e il tutto è in connessione con noi e ci dona ogni giorno, ogni giorno non attraverso me o Lidia, attraverso, esatto, non ci siamo solo noi al mondo ringraziando Dio. Tutti possiamo ricevere. Tutti possiamo ricevere, tutti ci possiamo impegnare anche a ricevere e metterci in ascolto di noi stessi. Anche la nostra stessa anima è frutto di conoscenza, è frutto di sapienza, perché la nostra anima non è nata ieri, la nostra anima non è nemmeno nata. Quindi possedendo questa virtù di raccogliere la conoscenza nei millenni della vita umana, che puoi trasportarsela nel non tempo della vita reale dell'esistenza animica nella dimensione, tutto rimane nella grande enorme biblioteca del sapere umano. Quindi non va perso assolutamente nulla. Verissimo, perché abbiamo questa capacità che non riusciamo a comprenderla spicciola, non riusciamo a capire e razionalizzare la profondità e la capacità della memoria. Ovviamente la memoria che abbiamo ci risulta, mentre viviamo, che è di breve durata, che ha un breve spazio, ha un breve posto di ricordi. Ma a livello animico, a livello dell'anima, la memoria non ha il tempo e lo spazio, non ha il senso di una vita di due, cinque, venti o quello che sono. La memoria dell'anima è eterna, ma si espande in tutte le vite, in tutti i mondi, in tutte le condizioni evolutive che ha vissuto, che vive e che sperimenta anche nel livello universale. Quindi noi la chiamiamo per esprimere la differenza da una memoria umana che racchiude il senso della vita, lo spazio della vita, noi la chiamiamo mnemonica, cioè una memoria come una banca dati immensa dove tutto, tutto, tutto viene registrato per ognuno di noi e quindi ognuno di noi ha questa memoria, dove all'interno di questa memoria ci sono un'infinità di informazioni, di accadimenti, di verità, di storie vissute, di amori vissuti, di vita e di morte e altro. Ognuno però abbiamo le nostre, quindi ogni umano ha la sua memoria mnemonica. Poi questa memoria resta ovviamente in custodia, chiamiamola così, nella grande biblioteca galattica dove nel livello cosmico di ognuno di noi, che è la vita, che è la pergamena della vita che noi leggiamo ogni giorno perché è nel livello cosmico che noi abbiamo la possibilità di ricevere la vita nel livello materiale, ecco da questi intrecci di livelli noi abbiamo la possibilità, mentre viviamo la nostra vita di materia, di andare di tanto in tanto ad attingere in queste memorie. Sono lampi, sono illuminazioni, sono percezioni, sono tante espressioni che si traducono poi mentre viviamo in emozioni, che diventano illuminazioni di realtà, che diventano pensieri che poi realizziamo perché li mettiamo a frutto mentre viviamo. E questo è anche per dire il livello medianico che a volte si esprime in un essere umano. e questo messaggio ha questa natura qui, è un messaggio animico, un messaggio medianico. E questo essere, questo Dante, racconta di sé il motivo per cui settecento anni fa, quando giunse sulla terra, portò una immensa verità, un'immensa storia, una, una, un'immensa conoscenza, un'immensa conoscenza. Tant'è che è diventata la base di tutta la cultura italiana e anche della nostra lingua, quindi un personaggio che ha fatto veramente, come tanti altri grandi personaggi, ha fatto un pezzo di storia veramente. Ecco, quindi non è una cosa da poco, quindi tutti, molti, anche i scienziati, eccetera, lo studiano, lo analizzano, perché effettivamente è un grande, un grande maestro, un grande, una grande espressione di verità, di informazioni. E quindi queste verità le troviamo all'interno della Divina Commedia, no? Sì, tra i tanti scritti che Dante ci ha portato, comunque la Divina Commedia rappresenta proprio un pezzo clou, una punta di diamante di questo grande personaggio, perché ogni personaggio ha avuto la sua punta di diamante nel bagaglio che ha trasportato sulla terra per gli esseri umani. Esatto, nel tempo e nel momento adatto, quando all'umanità, in questo caso parliamo di Dante, serviva all'umanità, al suo popolo, al popolo che c'era accanto a lui quel momento, che poi dopo tutto si sarebbe amplificato e divulgato, eccetera. Serviva questa linea, perché Dante ha portato una linea che da quel momento a tutt'oggi non è ancora scomparsa e non scomparirà mai. E questo, per farvi capire che succede a tutti, quando è ora che sul pianeta avvenga un qualcosa di particolare, un'innovazione dove deve mettere un punto focale che crea una storia importante, meno importante, che comunque crea un punto di avanzamento, che può essere in tutte le direzioni, ovviamente non stiamo qui a vedere quali sono le direzioni, da quel momento quel personaggio ha portato nella propria testimonianza una cosa grandiosa da sviluppare e da evolvere attraverso le notizie e le informazioni che ha portato. Cosa dire? Come partiamo per parlare bene? Beh, diciamo innanzitutto che non siamo degli studiosi di letteratura, quindi non siamo qui a farvi una lezione su Dante Lighieri e sulla sua capacità di scrittore, poeta e quant'altro, perché comunque era un grande essere su tutti i fronti, un po' come Leonardo da Vinci, uno nelle invenzioni e Dante nella scrittura, nel mettere insieme veramente parole, pensieri, sentimenti e quello che ci interessa di più oggi andare a sviscerare è la capacità di viaggiare tra i mondi. Quindi al di là che possiate credere o meno, che quindi possa magari essere anche considerato un fantasioso e che quello che ha costruito con la Divina Commedia possa essere una rivisitazione di quelli che sono i tre regni dall'aldilà già presentati, conosciuti comunque dalla Chiesa e che lui fosse uno viaggiatore di questi mondi e che li interpretasse nella sua maniera, nel suo stile, nel suo pensiero. Quello che è, tra virgolette, incredibile, noi sappiamo che di incredibile in questo caso non c'è niente perché comunque i viaggi dimensionali esistono, i viaggi astrali esistono, lo spostamento in bilocazione esiste, quindi sappiamo per certo che Dante Lighieri non si è mosso solo con il cervello, non si è mosso solo con la sua fantasia, ma bensì si è mosso con la sua anima. E ha fatto questo viaggio in questi tre regni, dove dentro ha cercato e ha trovato tantissime risposte, tantissime rivelazioni al suo pensiero, al suo perché della vita. Ma perché questo? Per tramandarlo a noi. Esatto. Esatto. Quello che diciamo è lui ce l'ha raccontato, quindi premetto sempre questa cosa, ecco. Quindi, partiamo da questo. Cioè, lui ha detto che praticamente con la sonascita lui ha portato la rivelazione della concretezza delle tre vie evolutive umane. paradiso, purgatorio e inferno. Perché questo lui dice ha portato? Perché l'uomo deve da questo momento in avanti avere un'altra visione sulla vita di materia, sulla vita dell'amore umano, sulla vita della linea della vita stessa che deve avere un altro valore, che deve essere più rivolta a una visione all'interno della vita che si vive, di coppia, non di coppia, maschio, femmina, la famiglia e tutto, si deve avere una visione più chiara e reale che tutto è rapportato, paragonato, collegato e attivato e disattivato con le dimensioni, con la legge, con tutto quello che è lo spirito e l'evoluzione che avviene sulla Terra dove niente va perduto e dove tutto viene appunto registrato in questa grande memoria. Questo perché lui dice che praticamente dobbiamo comprendere che nella nostra condizione di vita giornaliera, di tutto il percorso della nostra vita, abbiamo all'interno di noi il paradiso, l'inferno e il purgatorio. Come li dobbiamo, cioè come li viviamo, li dobbiamo registrare perché altrimenti non abbiamo la capacità e la realtà di come stiamo vivendo la vita, di quale qualità ha la vita mentre la svolgiamo per noi stessi verso gli altri o come la riceviamo dagli altri. Cioè noi dobbiamo comprendere che la vita la viviamo sì ognuno per sé, però è collegata che ci piacciono con tutti, vicini e lontani e quindi tutto questo crea il nostro mondo, il mio mondo, ognuno di voi il vostro, Hermes è il suo, ognuno è il suo. quindi in questa situazione noi viviamo contemporaneamente, non uno alla volta, ma contemporaneamente tutti insieme i tre livelli dei mondi, paradiso, inferno e purgatorio, oppure anche prima inferno, poi purgatorio e paradiso, o come vogliamo, perché ognuno di queste condizioni sono legate in rapporto a quelle che sono, siamo noi, emozioni, condizioni di vita, situazioni, gesti, comportamenti, parole, pensieri, cioè noi stessi formiamo queste tre condizioni di vita che poi li rapportiamo al celeste, alla dimensione, ai livelli superiori, bene, però per raggiungere i livelli superiori divini, oppure di un alto livello, o di una frequenza, diciamo, superiore, o di un incontro con una divinità, o con un grande essere, eccetera, devono avere delle basi però prima terrestri, se non ci sono delle basi terrestri con tanta difficoltà, saremo in grado di raggiungere quelle celesti. Per fare questo, ovviamente, dobbiamo credere di possedere un'anima e di essere comunque dei viaggiatori celesti, cioè noi veniamo dalle stelle, veniamo da mondi dimensionali e quindi questa capacità di spostarci ovviamente nel corpo umano è molto, molto difficile, cioè dobbiamo essere veramente centrati in una condizione mentale, psicofisica, veramente ad hoc per riuscire ad affrontare viaggi di questo genere e soprattutto avere anche la conoscenza di quello che facciamo, cioè viaggiare così tanto per fare e farlo in maniera approssimativa è veramente anche pericoloso. Quindi immaginiamo che cosa abbia provato un essere come Dante 700 anni fa quando la sua mente partendo da concetti di vissuto o da situazioni della sua vita, del suo tempo, della sua condizione sociale, politica e quant'altro che cosa abbia provato quando nel pensare, nell'immaginare quello che accadeva nella vita reale tutto questo gli si trasportava in questi mondi paralleli e quindi in quel momento dobbiamo capire anche che non è come oggi che da quando c'è la New Age, da quando conosciamo le tecniche di meditazione, da quando abbiamo contatto molto di più con il mondo spirituale ed è un po' più alla portata di tutti un grosso problema di sintonizzarci non ce l'abbiamo però comunque il rischio c'è questo io e Lidia lo sottolineiamo sempre perché ci piace dire che viaggiare è bello ma bisogna saperlo anche fare e bisogna stare anche molto attenti immaginiamo in un tempo dove queste informazioni non c'erano e uno come Dante quello che viveva lo viveva da solo poteva raccontarlo ma sapeva benissimo che non sarebbe mai stato creduto e che comunque l'avrebbero fatto passare per matto e quindi ha dovuto affrontare questi viaggi da solo li ha affrontati in delle dimensioni umane molto profonde dove della storia conosciuta non ci è stato tramandato da nessun altro questo racconto di questi viaggi nei regni dell'aldilà come diceva giustamente prima Lidia non sono regni che dobbiamo considerare dimensionali ma bensì sono regni umani è l'interiore umano che accoglie in sé questa divisione l'inferno il purgatorio e il paradiso non sono come giustamente si diceva in fila esattamente come vengono descritti perché ognuno di noi può avere una percentuale o più o meno dell'altro quindi abbiamo questa situazione che un po' ci fa capire che non tutto in realtà è in ordine come noi pensiamo e questo dovrebbe farci fare una grande riflessione perché come facciamo noi se lui ha davvero questo essere questo grande essere se ha davvero aperto questi canali se ha dato la chiave agli umani da quel momento in avanti di percepire di verificare e di andare a misurarsi da se stessi in quale livello ognuno di noi si trovava si trova e si troverà è come dire che ha aperto queste porte e queste porte da quel tempo non si sono più chiuse quindi sono settecento anni che le porte del nostro interiore per vedere chi siamo cosa facciamo quanto amore abbiamo quanto bene quanto sbagliato quanta fede quanto tutto fa parte di noi uno dice ma questa cosa qui si trovava anche nel maestro Gesù no in questo modo no il maestro Gesù ha portato la via ha portato altre cose Dante invece ha portato l'apertura delle porte interiori quindi per farci capire meglio questa situazione che avremmo incontrato lungo i secoli sempre ci ha fatto capire e lui ha provato su di sé o meglio ha raccontato attraverso se stesso i viaggi interiori suoi e anche di chi incontrava mentre viaggiava all'interno della vita umana nell'aspetto animico energetico dimensionale perché ognuno di noi per chi viaggia in un altro per chi è in grado di viaggiare animicamente sa benissimo vedere e colloquiare con una con una persona umana con l'anima di quella persona cioè vede all'interno della persona che cosa in realtà ha come come agisce nella vita quanto quanto è in linea con l'amore l'amore non stiamo qui a dire bene o male sei bravo se non sei buono sei serio onesto ladro o quant'altro no l'amore l'amore dell'universo l'amore che ha dato la possibilità alla vita umana di esistere all'amore che ha dato tutto il creato la possibilità di esistere e altro quindi è come dire che il nostro interiore che viaggia comunque in queste tre strade in questi tre tronchi in questi tre livelli ecco ce l'abbiamo tutti nessuno è esente da questi tre livelli nessuno vive la vita sul pianeta senza sperimentare questi tre livelli dal lato umano della vita perché riusciamo ad evolvere riusciamo a crescere riusciamo a uscire dal livello delle prove dal livello della restrizione della materialità del livello veramente della prigionia che ha l'anima all'interno della materia proprio per dare il modo al nostro interiore di avere la libertà la libertà cosa si intende la libertà di avere questi tre livelli in un unico livello che è quello dell'amore del cuore dell'amore per la vita del rispetto della considerazione la gratificazione e la gratitudine che abbiamo nei confronti dell'amore supremo dove esistiamo ognuno di noi nel nostro universo quindi non è molto facile quando noi dodici anni fa abbiamo compreso questa cosa questo come dire questo groviglio di condizioni dove uno ha sempre pensato che il paradiso è l'idilliaco non so cielo di stello oppure braccio a Dio oppure la fine delle pene oppure tanto tanto comunque il bello più il bello di così non si può oppure l'inferno è una cosa pazzesca dove vediamo non vediamo possiamo pensare solo che ci va il brutto il cattivo quello malvagio eccetera va l'inferno ok oppure il limbo qualcosa di pugatorio qualcosa di cui tu pagherai pochino perché hai poco cioè no non è così perché andremmo a donare tutta la responsabilità a qualcosa di celeste a una legge celeste universale cosmica dove decide per l'essere umano la sorte sia della vita attuale quella precedente ma è andata ma di tutte quelle che saranno nel futuro no no non è così che è così ci hanno spiegato il maestro dice del firmamento il grande maestro lo dice sempre quindi non siamo siamo svincoli da questa legge noi dobbiamo da soli fare la nostra compostezza nella vita il nostro stato di credo il nostro stato di luce il nostro stato di libertà il nostro stato di evoluzione tutto quello che abbiamo nel di vivere di imparare di percorrere la vita per raggiungere poi la rivelazione del nostro interiore che ci darà finalmente la libertà e la leggerezza per essere definiti poi i risvegliati cioè coloro che hanno capito coloro che hanno compreso visto chiaramente la linea dell'amore dove dentro se stessi e poi dappertutto intorno e soprattutto anche negli altri perché c'è lo stesso meccanismo c'è chi lo fa in un modo c'è chi lo fa in un altro quindi questi tre questi tre livelli Dante li ha portati facendoli essere suoi per poterli spiegare meglio per poterli raccontare meglio perché ognuno di noi se racconta una cosa di sé riesce meglio a trasportarla visto che lui aveva questo grandioso compito di trasportare di inviare di tramandare questa grandiosa verità dell'interiore umano che non è uno scherzo credo che ha spiegato e ha dato modo come un'impronta con una firma ha dato modo a tutti gli umani da 700 anni a questa parte di entrare amichevolmente nel proprio interiore scoprendo cercando di scoprire cercando di capire e di avere il coraggio di vedere cosa c'è nel nostro interiore ovviamente c'è l'amore ovviamente c'è tutto tutto un po' di tutto un po' e poi racconta che c'era tanto amore racconta l'amore femminile e l'amore maschile racconta questo amore espresso di queste due figure maschile e femminili di cui sono la divinità terrestre di cui non c'è ombra di un dubbio cioè ci sono delle cose che devono essere proprio chiare dove una persona deve dire dovrebbe no deve scusate dovrebbe dire beh effettivamente così così ma molti dubbi non ci sono poi magari non mi piace e non lo accetto perfetto però magari i dubbi non ce ne sono perché lui ha raccontato del suo amore no della della donna dell'uomo di tutto quello che è l'unione ma è normale è bellissima l'unione che c'è sulla terra da sempre da sempre ecco prima dei settecento prima del maestro Gesù prima c'è sempre stato perché quest'unione viene fatta fin dal dalla dimensione fino dal momento che noi scegliamo di scendere sulla terra quindi questo rapporto questo matrimonio che avviene fra un maschio e una femmina ma non è maschio e femmina è spirito e anima e quando prendiamo le sembianze umane che nasciamo alla luce solare io che abbiamo già detto se vi ricordate io sono maschio e sono femmina sono femmina sono maschio quindi io per quello che riguarda la legge divina la legge di alto livello la legge cosmica la legge universale galattica io sono già nel mio divino matrimonio nel mio sacro matrimonio perché io sono già spirito e anima scendo nella vita umana e inizio la mia vita in questo caso da femmina e così anche Hermes poi queste due figure materiali organiche di corpo umano si uniscono e da lì iniziano il grande meraviglioso viaggio della vita umana ed è il viaggio che racconta Dante paradiso inferno e purgatorio o viceversa o tutti insieme ma sempre nell'interno della vita infatti giustamente hai detto bene è un viaggio meraviglioso che Dante ha fatto e se vogliamo fare la trasposizione proprio rispetto al ragionamento che hai appena fatto Dante è l'anima in cammino pellegrina sulla terra dove affronta tutti i regni dell'aldilà cioè al di qua dove la vita materiale la vita di materia la vita condensata ci pone di fronte dalle debolezze e dalle difficoltà e dagli istinti più effimeri più basci più violenti fino ad arrivare al purgatorio quindi all'epurazione di questi tra virgolette peccati che non sono peccati ma bensì sono esperienze che ci hanno veramente da una parte sconvolto dall'altra fortificato fino a raggiungere il paradiso il paradiso sulla terra già la terra è un paradiso il paradiso sulla terra è concepire la terra un paradiso in primis ma poi questo viaggio ripeto fatto da quest'anima pellegrina nei mondi umani dalle debolezze fino alla meraviglia dei cieli dove ha rincontrato e incontrerà Beatrice la sua amata quindi è il simbolo dello sposo della sposa dello spirito quindi è l'anima che va incontro allo spirito in un viaggio attraverso i mondi della vita e questo Dante lo racconta in maniera molto ermetica molto profonda cioè è in grado di stabilire un contatto tra queste due realtà tra questi due mondi quello di materia e quello spirituale attraverso una poesia attraverso un racconto che ha in sé tutte chiavi numeri numerologie sacre che racchiudono a loro volta dei messaggi che ancora oggi dovranno essere decodificati però è importante è che oggi valutiamo uno scritto di 700 anni fa non più solo come un bellissimo scritto poetico letterario che ha un valore immenso perché ha gettato le fondamenta della lingua italiana quindi non è una cosa da poco ma per noi che abbiamo il contatto con con il cielo con i messaggeri e quindi parliamo di spiritualità parliamo della vita oltre la vita per noi il viaggio di Dante è una testimonianza a tutti gli effetti della veridicità non tanto di quello che diciamo noi ma di quello che raccontano le guide che ispirano i nostri libri che ispirano i nostri racconti ispirano i nostri ragionamenti è una testimonianza della possibilità veramente dell'uomo di incontrare se stesso attraverso tutte le dinamiche della vita e che ogni dinamica della vita che porta ad esperienze che porta a fallimenti ma anche a rialzarsi e a crescere attraverso le difficoltà della vita sono un viaggio che ognuno di noi come Dante percorre per ottenere finalmente la tanta pace agognata che tutti di noi vogliamo meritiamo e desideriamo raggiungere quindi questo questo nostro condividere questo pensiero oltre al messaggio che vi abbiamo letto all'inizio questo nostro desiderio di portare alla vostra attenzione quello che luce del firmamento ci ha raccontato ci ha spiegato dei viaggi di Dante che hanno segnato veramente un'epoca al tempo ma tutt'oggi stanno segnando un tempo quello della riconciliazione tra l'anima e lo spirito quello del finalmente apriamo gli occhi ci risvegliamo prendiamo atto che e andiamo indietro nel tempo a cercare le testimonianze di questa presa di coscienza guarda il caso chi meglio di un Dante può rappresentare il viaggio nella pena della materia dell'uomo da quando ha messo i piedi sulla terra fino ad arrivare alla cosiddetta o comunque tanto desiderata illuminazione perché comunque è un percorso che dobbiamo fare tutti e dobbiamo raggiungere tutti questo contatto con noi stessi ci illuminiamo ma perché ci risvegliamo perché ci risvegliamo perché prendiamo coscienza dell'esistere della vita dell'importanza del tutto del creato ma soprattutto di chi realmente siamo non siamo qui solo per godere della vita materiale non siamo qui solo perché siamo nati ma siamo molto di più siamo nati perché siamo un miracolo della creazione e siamo su un pianeta che è il giardino in Eden che è un miracolo di creazione in un sistema solare dove il miracolo della creazione si è espresso come in nessun'altra parte di questa galassia non andiamo a toccare altre galassie parliamo della nostra e diciamo in questa galassia il miracolo della creazione ha veramente fatto un lavoro con i fiocchi perché ha costruito il paradiso terrestre e noi esseri umani con i nostri presi i nostri difetti più difetti che presi perché comunque ancora zoppichiamo molto nel percorso umano ma stiamo camminando veramente nel luogo nel mondo nella dimensione di creazione più bella che sia mai esistita e questo è un sogno tra virgolette sogno che Dante ha visto all'interno di sé proiettato su di sé per poi riproiettarlo e darcelo a noi settecento anni dopo in una chiave diversa in una chiave innovativa in una chiave di un'esperienza unica e ripetibile già chiaramente ripetiamo io e Lidia non siamo né degli storici né degli studiosi quindi purtroppo non vi possiamo e non vogliamo nemmeno scendere nel particolare della della conoscenza di Dante ma perché per noi il nostro compito se vogliamo chiamare così è quello di aprire le menti a una nuova visione Dante Lighieri ne ha data una veramente importante su cui riflettere e su cui io e Lidia avevamo piacere di ragionare insieme a voi esatto anche perché quello che ha portato è la quella famosa casa di cui parla il Vangelo no la nostra casa privata la nostra casa interiore la nostra stanza dove la nostra preghiera il nostro tempio c'è quello spazietto dentro di noi che non può entrare nessuno né un ladro ve lo ricordate per dire no c'è proprio intimo ecco in quella parte intima esistiamo lì noi nel vero senso della parola quindi Dante ha portato la chiave per aprire quella porta per aprire l'interiore per fare lavorare l'interiore per fare percepire più chiaramente ciò che viene dall'esterno dell'interiore cioè dall'esterno del corpo che altro non è che la mente il pensiero il cuore il muscolo quello che batte nei sentimenti quindi tutte queste cose mente pensiero e cuore e muscolo che batte nell'amore dei sentimenti prendono e hanno sede mentre si vive la vita hanno sede nell'interiore ma è una cosa questa questo stato dell'interiore no che cos'è ma l'interiore è lo stato di coscienza dove all'interno di questo meccanismo che esiste dentro di noi ecco che può essere l'amor proprio che può essere il sentimento d'amore non i sentimenti amorosi ma il sentimento d'amore che praticamente ci fa essere un tempio ci fa essere una una parte sacra di noi che solo la nostra nessuno può entrare e neanche vedere perché nessuno può aprire questo tempio il portone di questo tempio quindi Dante ha portato questa possibilità oggi in questo tempo in questi ultimi decenni si parla tanto del tempio interiore si parla tanto del contatto con se stessi si parla tanto delle illuminazioni della ricerca dell'io di tutte quelle cose che fanno parte comunque di noi nell'intimo cioè non stiamo cercando una cosa come si fa a fare io sono una donna le tagliatelle o Hermes non so qualche altra cosa non stiamo parlando di queste cose qui perché per quello che riguarda il materiale non abbiamo niente da imparare nessuno e poi ci sono tante scuole corsi eccetera per quello che riguarda l'interiore invece forse molti di noi siamo scarsi forse molti di noi non ci crediamo oppure di più ancora abbiamo paura di entrare nell'interiore che cos'è è magia che cos'è non è magia è quella parte di noi che non è mai in pace è quella parte di noi che è alla ricerca sempre di qualcosa è quella parte di noi dove ci manca l'amore la comprensione la considerazione eccetera è quella parte dove ci sentiamo continuamente feriti è quella parte che ha tanto bisogno di libertà ed è quella parte dove siamo veri perché abbiamo uno stato di coscienza una presa di coscienza una realtà di noi stessi solo all'interno del tempio nel nostro tempo interiore siamo reali diversamente non lo siamo perché abbiamo sempre questa corazza materiale questa vita questo apparire questa illusione del vivere che ci porta al di fuori di quello ad esempio che Dante settecento anni fa disse ovviamente con le sue parole con gli scritti con tutto quello che ha vissuto e non ha vissuto certamente all'acqua di rosa ma ha portato le chiavi per entrare nell'interiore quindi abbiamo aspettato tanti anni decenni e secoli per arrivare a queste chiavi ora queste chiavi sono rivelate non svelate perché sono solo rivelate qualcuno ci ha detto guarda che è sempre Dante ovviamente cercatele le trovate bene però abbiamo trovato le chiavi perché l'interiore oggi lo conosciamo o meglio se non lo conosciamo di fatto lo conosciamo di parola però magari non abbiamo ancora avuto un'altra chiave che ce lo fa rivelare che siamo oddio ma era lì ma tu guarda non lo vedevo ecco questo è il grande dono che Dante ha fatto all'umanità del proprio futuro che siamo anche noi oggi quindi è onorevole per noi avere questo pensiero e siamo molto contenti di tutte le persone che hanno intrapreso questo risveglio e illuminazione e altro nei confronti del proprio interiore perché è come dire che abbiamo trovato intravisto meglio dire intravisto la chiave di Dante e a proposito di tre livelli di questo andiamo a vedere subito le domande che ci sono state fatte partendo da quella io chiacchiero molto di Paola ma chiacchieriamo tutti Paola Dante ha camminato nella vita terrena insieme a Gesù no 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 Dante no Dante è una come possiamo definirlo un grande essere ovviamente un grande essere cosmico non è un grande essere cosmico con un grandioso compito stiamo parlando perdonami Lidia di esseri che provengono dalle alte scuole che sono nelle dimensioni di appartenenza di quando noi torniamo a casa non è che ritorniamo a casa e c'è non so viviamo in così in un villaggio sperduto nell'universo no i nostri pianeti di appartenenza che sono comunque suddivisi per gradi evolutivi hanno ognuno la sua scuola di appartenenza e ogni anima ha la possibilità di scegliere a livello sempre di grandi esseri però di a quale scuola appartenere in quale scuola crescere quindi quando parliamo di personaggi come Dante Alighieri o Leonardo da Vinci o Mozart o chi più ne ha più ne metta o Buddha o Maometto tutti questi grandi esseri stiamo parlando di esseri che nelle dimensioni celesti di provenienza sono a loro volta sempre maestri nelle grandi scuole nelle grandi accademie della conoscenza quindi quando si incarna sulla terra un maestro un grande maestro di conoscenza ovviamente uno dice vabbè si sa però non è proprio così scontato ma però la differenza si vede perché comunque questi personaggi non è che ne nasce uno ogni due anni quando arrivano cambiano la storia quando arrivano pongono e zettano le basi di un nuovo futuro di una nuova dimensione della realtà umana quindi quando un grande maestro di una grande scuola si incarna veramente cambia la storia cambia la dinamica della vita e la cambia talmente in profondità che va a toccare non solo il compartimento umano materiale che lì la differenza comunque la fa ed è evidente ma lo fa a livello animico a livello animico questi grandi esseri scendono con un bagaglio che resetta in qualche modo tutto quello che era il prima e viene ristravolto ricreato e riposto di nuovo nelle mani dell'essere umano quindi ogni volta abbiamo un rinnovamento completo abbiamo con un'aggiunta di nozioni di informazioni cioè è un effetto valanga della conoscenza ogni volta questi grandi esseri che si incarnano veramente segnano la storia dell'essere umano ma la segnano soprattutto a livello animico perché comunque questi sono anche dei richiami per le anime per scegliere a un certo punto anche il proseguo del proprio cammino di conoscenza quindi se io torno nella casa del cielo e ho conosciuto un essere come Dante Lighieri o comunque nel tempo mi sono affascinato dei suoi scritti dalla sua conoscenza dalla sua profondità della sua poesia probabilmente come anima posso avvicinarmi alle sue accademie delle dimensioni dove lui è gran maestro nell'insegnamento di questa di queste nozioni e lì fare il mio percorso per diventare a mia volta nel tempo un maestro di questa grande accademia quindi ogni anima ha questa opportunità e quando loro si palesano nella vita umana danno questi imprenti in questo spunto anche per far sì che l'essere umano desideri crescere intellettualmente materialmente parlando nella pratica nella tecnologia in tutto è una spinta propulsiva immensa che la diamo per scontata ma non è così oggi succede tutti i giorni in questo tempo in questo momento della nostra storia umana terrestre questa cosa succede tutti i giorni perché ora grandi maestri si stanno incarnando per portare informazioni a livello scientifico tecnologico quasi di continuo perché in questo momento c'è bisogno e perché in questo momento la conoscenza è rivelata e non svelata giustamente come dice la Lidia perché viene rivelato che c'è qualcosa ma non ti viene svelato a meno che tu non lo voglia cercare esatto perché altrimenti vorrebbe dire che l'essere umano viene forzato a prendere in mano una conoscenza l'essere umano la deve volere la conoscenza lo deve volere il contatto non c'è dato niente a gratis non piove niente dal cielo che non sia voluto dall'essere umano se non quello che è invece un cambiamento globale attraverso l'arrivo dei personaggi oppure carmi collettivi che coinvolgono tutto il pianeta diversamente nel singolo caso nella singola vita nell'individualità questo non accade perché? perché è il singolo individuo che deve decidere che cosa vuole fare dalla propria vita esatto e quindi abbiamo questa possibilità attraverso questi grandi personaggi di conoscere altre dinamiche che ci portano ad essere quello che siamo oggi e gli uomini del futuro quello che diventeremo Marisa questi tre livelli sono dell'anima o della vita? allora questi sono tre livelli sono dell'anima che coinvolge non c'è la vita perché se non c'è la vita non ci sono i livelli non li possiamo neanche contemplare perché è la vita stessa come viene vissuta come ci poniamo come ci rapportiamo con gli altri come come viviamo tutti i settori tutte le condizioni tutte le sfumature della vita in tutto questo si crea continuamente tutti i giorni la condizione e la possibilità di vivere questi tre livelli l'anima da sé stessa nella dimensione ad esempio non vive questi tre livelli li vive solamente perché è incarnata nel livello nel piano umano di materia quindi ha tutte le possibilità di sperimentare e di vivere e di conoscere da questo livello umano dal livello umano questi tre livelli perché altrimenti non si possono comprendere perché non si arriva a capire non si arriva a sentire nell'interiore la bellezza che noi chiamiamo il paradiso che è la pace proprio la soavità l'armonia quella cosa meravigliosa che noi sentiamo in rapporto con tutto nella pace cioè il cervello diciamo non è che non funziona perché funziona benissimo ma è avvolto da un qualcosa di di armonioso di una luce grande come se noi viviamo vivremmo sempre nell'interno di un arcobaleno di un qualcosa di un'armonia così bella quindi per raggiungere questo che di fatto è la dimensione dello spirito noi dobbiamo passare per quei livelli per quelle vie umane che ce lo devono far conoscere quindi per riconoscere questi livelli dello spirito che è lo sposo dell'anima del matrimonio che dicevamo all'inizio dove si consacrano di fronte alla legge suprema del creatore il padre dio quello che è ecco perché è il supremo di ogni cosa con noi in quel modo lì di questi tre livelli riusciamo ad andare in contatto con il nostro interiore e da lì iniziare a viaggiare nel livello materiale nel livello materiale iniziamo a viaggiare per andare poi ad approdare di tanto in tanto continuamente sempre di più fino a stabilirci nel nostro interiore dove appunto assaporiamo la bella linea la linea luminosa della luce dove brilla la luce dove esiste c'è la sorgente della nostra essenza dove c'è l'universo della nostra esistenza e di tanto in tanto appena lasciamo il nostro interiore possiamo vivere quello che chiamiamo il purgatorio sono quelle piccole scosse quelle piccole cose che dai via ci danno fastidio qualche lacrima qualche delusione eccetera ma non scompiglio non scompensazione da poter dire oggi è un inferno non ce la faccio più o altre parole Enrico le colline di Onferno sono il luogo guarda il caso dove abitiamo proprio noi sono le colline di Onferno grazie per la similitudine ma in realtà ci sta perché fino al 1816 finché un vescovo non cambiò il nome a questo paesino dove abitiamo in realtà si chiamava proprio Inferno questa frazione del comune di Gemmano poi dopo ovviamente è stata cambiata con Onferno per smitizzare un po' anche questo collegamento con l'Inferno però di fatto il luogo dove abitiamo in Lidia si chiama Inferno e Enrico chiede le colline di Onferno sono il luogo dove voi Lidia Hermes vivete se non erro questo luogo visitato da Dante un tempo si chiamava Inferno cambiato poi nel tempo Dante vide forse qualcosa che lo ispirò beh diciamo sicuramente sì ci sono testimonianze anche storiche che dicono che Dante sia passato da di qui e che abbia soggiornato qui c'erano anche dei castelli e abbia soggiornato in uno dei castelli soprattutto quello che c'è sopra le grotte di Onferno l'omonimo castello e soprattutto se andiamo a vedere se avete la possibilità di andare a curiosare su internet cercate le illustrazioni di Gustave Doré troverete quella che rappresenta l'ingresso del del viaggio che fa Dante all'Inferno l'ingresso è esattamente identico un'immagine in grotte che abbiamo poche centinaia di metri da casa e quindi Dante è stato un grande viaggiatore anche materiale e sicuramente l'ispirazione per mettersi in connessione con questi mondi l'ha cercata anche laddove vi erano già dei punti energetici no Lidia particolari anche perché si dice sempre a livello delle nostre guide così ecco in questi paesini oltre che abbiamo Gemmano cos'è la guerra com'è che è la faccenda Gemmano è la Cassino è la seconda Cassino la Cassino dell'Adriatico dove c'è la linea più afferati dalla seconda guerra mondiale esatto e questo anche a livello energetico è veramente un punto che magari un giorno vi racconteremo perché abbiamo una bella storia da raccontarvi sulla linea gotica bella bella e praticamente questo posto queste colline che sono belle però insomma via pensiamo niente di che voglio dire sono belle come tante altre colline che ci sono nell'entroterra del nostro paese l'Italia è tutto bello quindi le colline con la loro diversa conformazione ma sono tutte belle esatto però ha molti esseri diciamo grandi esseri che hanno portato linee all'umano potrebbe essere San Francesco ad esempio potrebbe essere quando ha fatto un viaggio insieme a Maddalena e anche di questo un giorno vi racconteremo quindi è uno di quei posti dove che noi non sapevamo niente di tutto questo quando siamo venuti ad abitare qui quindi non c'è nessun secondo fine nessuna corsa l'abbiamo scoperto qui abbiamo scoperto tutto una volta che siamo arrivati qui ci teniamo a dirlo perché altrimenti magari non possiamo raccontare delle cose in apertura e sincerità perché magari sembra che abbiamo fatto di proposito tutti i conti no 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 non lo sapevamo e quando siamo arrivati qui abbiamo scoperto ovviamente siamo stati ma questo come sempre questo come sempre tutte le cose che arriviamo a tra virgolette scoprire a riscoprire a spolverare a sollevare il velo le abbiamo scoperte sempre dopo esatto e quindi questo è anche un motivo per cui siamo in continuo anche noi apprendimento di conoscenza e di concetti che non non si finisce mai perché ogni cosa richiama a un nuovo tipo di ragionamento a una nuova riflessione e a un nuovo punto di vista esatto e finisco un attimo e dico questo perché dove qui abitiamo e così oggi facciamo un petitino anche di storia dove abitiamo al 2000 anni fa e qui si dice comunque ci dovrebbe essere la storia di questa quindi ci sono degli studiosi locali che hanno fatto delle ricerche esatto e che proprio qui dove abitiamo noi anche proprio nella questa specie di vallata qui a Unferno c'erano due due laghi uno si chiamava lago maggiore e uno si chiamava lago minore e al tempo di Roma quindi al tempo 2000 anni fa qui c'erano e ci sono ancora le acque sulfure le acque calde e quindi i romani venivano a fare le terme quindi era un luogo di villeggiatura ma sì è impossibile è quasi impossibile da immaginare no è quasi è impossibile è impossibile perché ormai non c'è nemmeno più una casa quindi dice ma come può essere cioè che roba è comunque così si dice quindi tutte queste cose messe insieme in un piccolo fazzolettino in un piccolo fazzoletto di terra per noi non è stato difficile pensare credere a Dante che è venuto qui eccetera eccetera e tutte le altre cose e quindi Dante perché non è venuto qui non c'era motivo perché non fosse venuto e quindi delle cose lo testimoniano e noi ci crediamo poi lui ce l'ha raccontato successivamente adesso perché voglio dire che è venuto semplicemente anni fa quindi così aggiungo una piccola pillola storica dato che ci siamo così stimoliamo la vostra curiosità addirittura il fiume Conca quello che praticamente l'abbiamo dall'altra parte dalla ballata qua alle nostre spalle e che è il fiume che dà il nome a tutta la vallata della Val Conca quindi a partire da Cattolica a salire su verso andando verso la Carpegna insomma praticamente era navigabile sempre al tempo di Roma ma anche prima anche prima perché ci sono notizie che praticamente i greci risalivano lungo con le loro navi lungo il fiume Conca fino ad arrivare qui dove Lidia diceva poc'anzi che c'erano che ci sono le le miniere da dove si estraeva lo zolfo quindi c'era già questa queste solfatare le chiamavano così venivano a stare lo zolfo per usarle per fare il bitume per calatafare le navi quindi per impermeabilizzare le loro le chiglie delle loro navi quindi stiamo parlando di una storia ancora più antica dei romani dove questi luoghi sono stati comunque sempre un punto di passaggio e di raccolta di qualcosa che qui comunque avevano sempre da dare o da prendere tutte le popolazioni che hanno solcato la nostra nazione dai tempi dei tempi quindi a maggior ragione è un luogo che vi invitiamo a visitare oltre a quando si potrà venirci a trovare un invito aperto a tutti ma questa è la conoscenza che racchiude questo fassolettino di terra e abbiamo la fortuna di dire che anche Dante è sicuramente è passato di qui e quindi ci fa molto onore passo alle altre domande finali poi purtroppo abbiamo sforato e quindi dobbiamo concludere chiediamo scusa Elide c'è una spiegazione spirituale del fatto che è chiamata divina commedia? penso proprio di sì perché il ragionamento ragionato oggi è una divina commedia perché la vita è una divina commedia perché la vita è composta da da tutto ciò che è divino perché ogni cosa che facciamo è divina perché non neanche un gesto facciamo che non sia divino perché lo facciamo noi con la nostra divinità sia che sia bello sia che sia brutto se è bello ed è coroso se è brutto ovviamente entriamo nei livelli carmici ma è un'altra cosa quindi sono divini certo la divina commedia anche perché è un dono del padre è un dono dei grandi esseri è un dono della federazione galattica che ha permesso che al popolo umano venisse data questa chiave per scoprire per scoprire non riscoprire per scoprire di avere un interiore un tempio tutto privato ognuno ha il proprio tempio poiché ne abbiamo uno di mattoni o di tenda o di grotta o è lo stesso però ognuno di noi c'è il proprio tempio quindi la federazione galattica disse a questo grande essere ok è giunta l'ora che tu scendi per andare a portare questa rivelazione questa grandiosa verità Giovi dobbiamo ringraziare Dante grande essere che ci ha portato le chiavi per aprire la nostra casa interiore la conoscenza certamente sì assolutamente e ovviamente magari uno non ci crede neanche non ha importanza però è una cosa che ci è stata data portata perché prima di lui nessuno aveva detto questo quindi arriva e nasce sul pianeta questo essere in grado di portare questa innovazione questa novità questa grandiosa novità che parla addirittura di paradiso inferno e purgatorio che ha comunque preso e assunto già un linguaggio che c'era perché mi pare che era un linguaggio cristiano questo ecco e l'ha preso come come punto di spunto per poter intraprendere una un racconto una storia di potersi esprimere per poter per poter poi raccontare la divina commedia che a tutt'oggi se non vado sbagliato è uno dei libri più importanti più più importante e più letti al mondo e più letti al mondo quindi non è certamente è più attugiato esatto da sottovalutare né da non è da prendere sotto gamba ecco bravo stavo dicendo così semplicemente perché magari possiamo dire che soprattutto noi giovani non voglio dire i grandi perché magari siamo noi giovani che sottovalutiamo un po' le cose cosiddette vecchie esatto perché è vecchio non mi interessa niente non voglio saper niente di vecchio non c'è niente perché noi siamo in continua rispolvero di situazioni e ciò che è vecchio ritorna e si ripropone perché forse vuol dire che c'è qualcos'altro che dobbiamo vedere non abbiamo visto quindi prima di allontanare frettolosamente qualcosa soprattutto di vecchio e così dovremmo imparare ad essere anche più rispettosi nei confronti delle persone quando diciamo i vecchi impariamo a rispettare il vecchio perché il vecchio c'è sempre tante cose da insegnare e racchiude delle chiavi che nemmeno noi ci immaginiamo lo dico per esperienza personale perché quando si è giovani si è ribelli poi quando cominci invecchiare come me dopo cominci a vedere io mi nascondo vado a prendere un velo dopo si arriva a capire perché ci si dicevano certe cose perché l'anziano racchiude veramente delle chiavi di conoscenza e di esperienza notevole comunque speriamo di aver detto delle cose abbastanza interessanti scusa Lidia concludo con l'ultima domanda perché non abbiamo finito Massimo si può affermare che quando ci specchiamo ogni mattina possiamo vedere se vogliamo i nostri tre livelli danteschi e sentirne le conseguenze beh sì certo vedere magari no sentire nell'interiore sì perché ripetiamo è uno stato di coscienza che ci fa sentire vedere percepire da che parte stiamo e come stiamo di salute ma non di salute fisica quello c'è il medico ma di salute interiore di salute del grande amore cosmico universale dei grandi livelli da dove veniamo dei grandi amori e quindi certamente lo possiamo sapere poi dopo se vogliamo possiamo essere noi stessi il medico di noi stessi buon ragionamento e sano pensiero prendere atto di elevarci sempre a una vibrazione superiore per poter sempre di più entrare all'interno di noi e con questo concludiamo questa bellissima giornata bellissima ora insieme scusate se ci siamo diluncati un po' come sempre ci sono sempre tante cose da dire e il tempo stringe dei tiranno nei nostri confronti però vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina facebook ovviamente questa qui dove c'è la diretta quindi vi invitiamo a venire a visitare seguiteci anche sul nostro sito www.lidiagambuti.com dove trovate il blog di Lidia dove Lidia affronta diverse tematiche che già affrontiamo insieme il giovedì e anche la domenica e dove potete farle le domande che più vi piacciono oltre che commentare il blog e darci magari degli spunti se siete curiosi e volete approfondire determinate tematiche perché siamo sempre anche noi alla ricerca di nuovi argomenti per stimolare la vostra curiosità quindi se anche voi ci aiutate in questo non siamo ben felici fate le vostre proposte su quelle che potrebbero essere le prossime dirette che volete ascoltare certamente sì e non vi dimenticate di iscrivervi alla nostra newsletter sempre all'interno del sito per ricevere le ultime novità sia sull'uscita dei libri sia sugli eventi che stiamo organizzando e portiamo avanti soprattutto novità già dell'anno scorso ma quest'anno abbiamo intrapreso questo cammino attraverso sempre le dirette online del Caffè della Fonte quindi abbiamo ospiti d'eccezione che ogni domenica ci porteranno le loro esperienze qui su questa pagina di De Gambuti Pagine Cadute per aprire il mondo a tutta la conoscenza come diciamo sempre non siamo né io né Lidia i soli a parlare e a portare quello che il cielo la dimensione i grandi maestri illuminano costantemente l'umanità con informazioni e conoscenza per farci crescere ma ci sono tantissime altre persone al mondo e siamo felicissimi di farvele conoscere perché noi le abbiamo conosciute le stiamo conoscendo e siamo veramente onorati di averle molto onore a fianco a noi in questo cammino per aiutarci a vicenda a crescere esatto e insieme cresceremo sempre di più grazie infinite davvero grazie a voi buona Pasqua buona Pasqua e buon proseguimento di pomeriggio e un abbraccio grande grande ciao ciao